Percepivano il reddito di cittadinanza, ma continuavano a lavorare come parcheggiatori abusivi oppure come contrabandieri. In 24, di età compresa tra 25 e 63 anni, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Napoli e segnalati all'Inps. I finanzieri, nell'ambito dell'operazione condotta dal primo gruppo di Polizia Economica Finanziaria di Napoli, hanno scoperto che i furbetti avevano percepito complessivamente 267 mila euro. Le Fiamme Gialle, dopo aver individuato le persone percettrici di reddito, hanno scoperto che regolarmente e ogni giorno svolgevano abusivamente la professione di parcheggiatore nelle vie del centro di Napoli, nei pressi dello Stadio San Paolo, nelle zone della Movida Notturna di Via Chiaia e dei locali di Via Coroglio. Altri, invece, sono stati fermati a più riprese, anche con considerevoli quantitativi di tapacchi lavorati esteri nelle zone di Lavinaio e del Borgo di Sant'Antonio. Tutti gli indagati hanno anche sistematicamente omesso di dichiarare qualsiasi altra forma di reddito, anche se percepita da altri componenti del nucleo familiare, e pertanto l'Inps avvierà la procedura di recupero del reddito di cittadinanza erogato fino ad ora.